Manca un anno e poi Agrigento sarà capitale della cultura italiana, ma è reale il rischio flop come parla la stampa nazionale? Il titolo di capitale della cultura è una grandissima opportunità per Agrigento che merita assolutamente l'attenzione e il riconoscimento che ha avuto dal mistero della cultura. Gli aspetti organizzativi invece, cioè quelli che devono avvenire necessariamente sul territorio e tramite le istituzioni locali, invece sono assolutamente carenti o latitanti. In questo quasi anno che è trascorso dal riconoscimento abbiamo visto molto poco. Quello che come associazioni possiamo dire è che attraverso il riconoscimento di capitale della cultura dovrebbe essere realizzato qualcosa che abbia anche una valenza non soltanto per l'anno in cui si avrà questa sorta di festeggiamento collettivo, bensì qualcosa di stabile e qualcosa che possa rimanere nel tempo. A tal proposito abbiamo dato alcuni suggerimenti nei mesi, negli anni al sindaco di Agrigento e a chi si sta occupando della predisposizione di tutte queste attività e cioè attraverso questo titolo recuperare una cultura ambientale, una cultura tecnica, una etica anche della spesa pubblica. Ricordiamo che questa è una città che da un punto di vista urbanistico e ambientale negli anni è stata violentata, ha subito gravi attacchi speculativi e tuttora spesso ancora li subisce e comunque paga le conseguenze di una gestione del territorio e di una disattenzione ai temi ambientali che è gravissima e che ci porta ogni anno in fondo a tutte le classifiche di qualità della vita. Capitale della cultura potrebbe essere e può ancora essere un momento per recuperare quei posti in classifica che probabilmente ci vedono agli ultimi posti perché non siamo stati capaci di concretizzare una cultura che invece ad Agrigento c'è, assolutamente c'è ma deve essere recuperata. Lei è ottimista, Agrigento arriverà pronta al primo gennaio 2025? Essere ottimisti è un obbligo morale, se poi dobbiamo basarci su fatti concreti non c'è né da essere ottimisti né da essere pessimisti, non abbiamo visto nulla. Nessun cantiere di opere pubbliche ancora partito da Agrigento? Ci sono dei finanziamenti ma sulla concretezza e sull'inizio di queste attività si è visto ben poco o quasi nulla.